Ciao amici, mi chiamo Lorenzo, adoro i dinosauri, in questo video voglio presentarvi i miei dinosauri preferiti e portarvi con me nelle mie avventure. Ciao, io mi chiamo Raedus e sono molto simpatico. Io invece sono Mini Raedus e spero che i nostri vedovi piacere molto, amici miei. Noi siamo i fratelli Burger e prendi questo per gli ticchiano svezzo, ma ci vogliamo tanto bene, Ezzi. Io sono l'atopo e foglio di più tanto io e tutti. E io infine sono Dino Luci, perché mi illumino ogni volta che sono arrabbiato. Ciao amici! Noi! 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 Noi!